Poi uscì dal coma e la voce era questo deficiente qua, scusate per il deficiente amichevolmente, Giovanni Di Pignone. Eh fratello, diamoci la mano, ma è stata una terza, io di emozioni da te ne ho avute migliaia sulle piste, però quella fu sconvolgente perché ti portai quella cuffia, quella cassetta che facemmo e ti sei svegliato. Eh non male è stata, andiamo avanti. Grazie Giovanni. No, grazie, io ho fatto quello che mi disse Corbasso, fai una cassetta perché lui ascoltava. Il dottor Corbasso sì, lui ha fatto tantissimo, però tu hai fatto le cose reali, lui ha fatto poi, ha fatto moltissimo, perché... Ma mica vogliamo fare la carra, le cose, capito, poi io mi commuovo perché è stata veramente una serie di cose, però è bello che te non rinneghi che hai pagato questo prezzo, te lo rifaresti tutto, Cioè la tua passione e l'amore per le moto ci fa dire ora, dice no, io rifarei tutto, sì? Rifarei al certo per cento ciò che ho fatto, magari spererei di evitare gli incidenti, ma comunque sì, mettere ugualmente a repentaglio la mia vita, la mia condizione fisica. Perché l'amore per questa moto... L'amore per la gara, per la vittoria, per la vittoria in moto è fantastico, è troppo, 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 vincere la gara di capo al mondo, avere tantissimi tifosi addosso e vedere che tu li rendi felici, io correvo per loro, per me era troppo gratificante vedere loro felici, di aver assistito, non mi sarebbe piaciuto correre alla... non facciano comunque al... e pensare alla vittoria perché così non riesco nulla, no, io è giusto che devo dare spettacolo al pubblico, deve divertirsi loro, loro stanno sotto la pioggia, sotto il sole. Però, insomma, tu hai pagato come tanti motociclisti della domenica che purtroppo poi passano mesi in ospedale e poi vogliono ritornare in moto. Io d'altronde ero più fortunato dei tanti motociclisti della domenica perché ero pagato per divertirmi. E per far divertirmi, perché tu sei stata la prima leggenda della Superbike perché hai fatto queste cose epiche. Io ero pagato, io mi divertivo ed ero anche pagato, ero pagatino all'epoca, ora sono stra pagati da diversi anni, però è giusto così perché resti la vita. Beh, tu hai iniziato con una paga di autista del camion e poi hai sbaragliato tutti, hai sbaragliato. Per una volta sono cambiati i tempi. E sono tempi buoni. E sono conscio di essere stato promotore di questo cambio di gira nazionale, diciamo. Allora, prendiamoci una pausa, andiamo ai box con Giancarlo Falappa, diamo la linea alla regia, ritorniamo per la seconda parte di questa puntata speciale davvero di Primo Piano. Bentornati a Primo Piano, puntata dedicata al mito di Giancarlo Falappa. Questo è il casco. Vent'anni fa tu hai messo le frange sugli stivali e sulla tuta, prima di chiunque altro. Il leone sul casco. Hai creato un personaggio con imprese che abbiamo narrato e sono tutte vere, incredibili. Il leone era in onore della mia città, di Chiesi, che è il leone rampante, il logo della città. No, il leone era in onore di come tu ti andavi a... Era la mia aggressività. Ma è vero che c'era un pilota che in casa, sulla pista di casa, era in testa dal primo giro, all'ultimo giro si è fatto da parte e ti ha fatto passare. Andiamo avanti, perché se no non si può capire come è nata la leggenda di Giancarlo Falappa. Raccontami questa, per favore. No, no, scusami. Siamo a Zetveghe. No, a Spa-Francorchamps. A Spa-Francorchamps. Il pilota si chiama? Stefan Mertens. Pilota belga, siamo in casa sua. È la sua pista, è in testa dal primo giro. Falappa arriva, lo bracca, gli morde il codone, siamo all'ultimo giro. Questo pilota alle ultime tre curve si alza, si fa da parte, te vinci. Noi andiamo sul podio a intervistarlo. Che cosa hai rotto? E lui cosa dice? Niente. Niente. E perché ti sei fatto da parte? Io lo so. E Mertens dice quando ti arriva Falappa dietro è bene che tu ti faccia da parte perché lui ti passerà e se non ti sposti ti passa sopra e allora io volevo almeno finire sul podio e l'ho fatto passare. E' vero o no? No, lo so. Lo disse lui, lo disse. Non aveva rotto la moto. Lui disse quando ti arriva Falappa dietro lui ti passa, ti passa sopra. Sì, però non sono stato mai scorretto. No, neanche quando hai buttato fuori il tuo compagno appunto. Polen. Polen, poverino. Ma no, anche a Spa-Francorchamps. Non l'ho buttato fuori lui, ho frenato presto. No, no, scusa, ma ha frenato presto. Ha frenato presto. Certo, secondo me sì, se dove frenavo io, frenavo presto. Lui è finito un attimo a cercare le margherite. Io no. Mannaggia. E te? Hai vinto la gara. E allora. Ma è così? E era il tuo compagno, era il campione del mondo. La pista vince il più forte. Bisogna essere deciso in pista, non bisogna fare tre cose a comodi. Non bisogna fare scontesse, io non ne ho mai fatte. Però non bisogna neanche... Oddio, ora io... Sei sicuro che non c'è qualcuno a casa delle tue vittime? No, no, mai fatte scontesse. Pirovano, quante cattiverie gli hai fatto a Fabrizio? No, Fabrizio. A 300 all'ora Okinaim, boom, colpi, gli hai tirato delle tamponate al povero Pirovano? No. Ma come no? No. No, a Dassen, Pirovano, sul bagnato, agganciati, volati via, nulla? Non ricordo. No? Non c'è una memoria corta? No, no, no. Quando mi sei finito sul tavolino che facevo la telecronica a bordo pista e mi siete volati via tutti e due alla S, no? No, 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 no. Va bene, ora insomma il tempo ha un po' stemperato, non è vero perché l'occhio ce l'hai sempre guardato. Lo sai che non ti si poteva avvicinare né prima del via per un'intervista né cinque minuti dopo il via alla Karl Fogart ti sei stato te perché avevi questa adrenalina con le cose prima ma da una partenza, dopo no, 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 dopo no. Se l'ha andata bene no, se l'ha andata bene no, se l'ha andata male ero cattivo. Cioè prendevi il microfono e ce lo volavi. E se l'ha andata male era un po' in cazzareccio. Un po' temperamentoso. Ultimi minuti. D'altro io corso sempre per vincere, non ho mai corso per arrivare a fare punti e a fare risultati, no, per me l'importante era vincere. Il mio motto è il secondo e il primo dei perdenti, è sempre stato questo. Il secondo e il primo degli sconfitti. Se tu vai a fare una gara di campione del mondo, fai impegnare tanta gente e lavora per te, un'azienda addirittura lavora per te, io mi sentivo in debito, in obbligo di dare il 110% di me, non bastava il 110%, il 110% di me lo dava. Era giustissimo che io facessi, non vincere soltanto, ma divertire il pubblico, ma che il pubblico si affezionasse a quel prodotto. Si è affezionato e ti ama tantissimo, a tutt'oggi, a vent'anni, dalle tue avventure e dai tuoi gesti incredibili. Certo è che magari ti ama tutto il pubblico, tutti i giornalisti, qualche pilota, magari un pochino il dente avvelenato ce lo può avere, perché è un po' birbantello, però fa parte della leggenda del personaggio, giustamente uno che pensa che il secondo, il primo dei sconfitti va bene così. Ultime domande, di solito in questa parte della trasmissione sono tre domande velocissime alle quali bisogna rispondere. Il Falappa moderno, chi è? Segui le gare Superbike e GP? Chi ti piace? Chi è cattivo? Superbike. Chi è? C'è un Falappa? No, non c'è un Falappa. Chi c'è? No, Falappa non c'è. Chi c'è che ti piace ora? Michel Fabrizio. Bah, il vecchio Michel. Il vecchio, il giovane, non il vecchio. Il giovane Michel. GP chi è il numero uno? Il numero uno è troppo semplice di dirlo. Eh, ma dillo. E vale. Eh, Valentino, anche per te. Cioè, proprio, non c'è proprio. C'è una spanna sopra chiunque. Eh, vabbè, ma è, sono d'accordissimo. Chiesi Stoner ha avuto un... Ah, già che ti c'è il cuore Ducati, il fisso Ducati. Un lampo di... Ma questo non può essere l'anno di Chiesi Stoner? Ah, che potrebbe anche essere l'anno di Chiesi, perché... Però, saura sempre da soffrire contro il Valle. Valentino è... Immenso. Giancarlo, Immenso è chi fa delle imprese leggendarie in moto che poi vengono tramandate. Valentino molto più per la televisione, te un po' meno perché c'era meno televisione, però ormai tu hai valicato anche tu il tempo e sei diventato davvero una leggenda con queste cose che hai fatto. Eh, l'ultima cosa per salutarci? Ma, mi raccomando ragazzi, se vuoi andare forte andate in pista. In strada casco allacciato, luce accese e con calma purtroppo perché in strada della giungla, altro che pista, in strada è molto molto pericoloso e la vita è una. Io non so qualcosa ragazzi. Io, ora, falappa... Pensateci davvero, se vuoi andare forte andate in pista. Ora, falappa filosofo, che mi fa i cerighini della situazione, non me lo sarei mai aspettato, però hai ragione. È così Giovanni. Incredibile, bellissima chiosura, bellissima puntata, grazie Giancarlo, grazie Giulia. Salve ragazzi e amici inovolari, arrivederci.